Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, pront! Sbloccato proprio da poco il colore del drago grigio, la versione di ibrido. Come al solito volevo condividere con voi questa meraviglia. E allora, sbrang! Ottieni e chiudi, andiamo a vederlo ragazzi nello shop. Eccolo qua ragazzi, guardalo qua, guardalo qua. Look at this! Bello, bello, molto cattivo grigio raga eh. Molto cattivo, occhi verdi, drago grigio, non cambia assolutamente altro. È semplicemente una questione di stile di ibrido. Se devo essere sincero, guardando anche con il rosso e con il verde... A me comunque piace più il verde. Anche se grigio è davvero tanta tanta roba. Ragazzi, ditemi qua sotto nei commenti come vi sembra. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Noi ci vediamo presto! Ciao! 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 Ciao!